In regione oggi il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, incontro per i fondi alla sanità. Ricostruzione e cratere sisma, il commissario straordinario Castelli fa il punto della situazione ad inizio 2024. La scure della Bolkenstein si abbatte anche sulle licenze degli ambulanti, il parere del sindacato Anva. Strage di Corinaldo, la testimonianza di chi visse l'orrore di quella notte, ora invece si impegna per un divertimento in sicurezza. Buongiorno, bentrovati per questa prima edizione di All News, siamo in diretta dalla sede di Fano, lo avete sentito nei titoli, un incontro importante questa mattina in regione, nella sede della Giunta, con l'onorevole Alessandro Morelli, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tema la sanità e i fondi a disposizione e naturalmente parola d'ordine a battere le liste d'attesa. E allora abbiamo in collegamento da Palazzo Raffaello Manuelita Scocco che ci aggiorna sulla conferenza stampa che è in corso in questi momenti proprio, credo, giusto Manuelita? Sì, grazie per la linea, scusate se c'è un attimo di ritardo ma è in corso di svolgimento la conferenza stampa, non è al tavolo il Presidente Acquaroli perché è indisposto ma con il sottosegretario Morelli c'è il Vice Presidente della Giunta regionale nonché Assessore alla Sanità Filippo Salta Martini. Dicevo è ancora in corso la conferenza stampa che è iniziata più o meno alle 12.30, noi comunque abbiamo già sentito il sottosegretario che la cui intervista manderemo questa sera per ulteriori dettagli però la dichiarazione è estremamente positiva perché ci sono 137 miliardi in totale per la sanità da ripartire tra le regioni, la ripartizione per la regione Marche è di 80 milioni, in totale sono 3 miliardi in più rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la dotazione nazionale e anche per quanto riguarda quella delle Marche si dovranno fare i conti ma in cassa c'è sicuramente qualcosa di più, quindi l'anno si apre con una notizia positiva, era attesa, c'è stato un grande lavoro da parte della Giunta regionale di pressing, diciamo così politico, soprattutto per risolvere quella che è la questione principale e che sta penalizzando molto la sanità della regione e cioè le liste d'attesa perché ci sono dopo il Covid, questa è una situazione che riguarda tutta l'Italia ma dopo il Covid la regione Marche soffre un ritardo clamoroso sulle prenotazioni di visite specialistiche, di operazioni, di interventi chirurgici e di altre questioni. Dunque una conferenza stampa che ci dà una buona notizia, ci dà speranze per questo 2024 che sta per iniziare e poi naturalmente è stata l'occasione per ribadire invece quanto di buono sta facendo la sanità in una ottica, in un ambito di una novità del piano socio-sanitario e quindi questo è però, ecco abbiamo il sottosegretario in diretta, buongiorno, noi siamo in diretta con il nostro telegiornale, grazie, è appena terminata la conferenza stampa, dicevo iniziata per le Marche con una buona notizia quella delle risorse in più e che andranno a risolvere speriamo definitivamente il problema delle liste d'attesa. Grazie per questa opportunità, sì, 3 miliardi in più che invertono il segno matematico che normalmente purtroppo sul tema della sanità era prevalso negli ultimi anni, cioè il meno. 3 miliardi in più in generale per il Fondo Sanitario Nazionale che viene ripartito ad ogni singola regione per le Marche significa circa 80 milioni in più che chiaramente potranno essere un aiuto anche per ridurre le liste d'attesa. Ecco, sottosegretario, la sua visita era attesa da tempo, è stata anche rimandata, ma lei che ha il polso della situazione per la sanità, qual è l'impressione? Beh, lo spunto per quanto riguarda le Marche è assolutamente positivo, innanzitutto c'è una visione anche per i prossimi anni, investimenti che riguardano il PNRR e altri fondi di derivazione europea che guardano per esempio la telemedicina, la digitalizzazione per quanto riguarda proprio il settore sanitario, un aspetto molto importante perché attraverso questi strumenti tecnologici che, non stiamo parlando di Star Trek fra 30 anni, che nei prossimi anni potranno essere messe a disposizione anche dei nostri concittadini, delle popolazioni che magari sono fuori dai centri abitati, magari in settori montani, appenninici e che quindi magari hanno un po' più di difficoltà a raggiungere dei luoghi dove c'è il medico o un ospedale. Io ringrazio il sottosegretario anche per questa intervista a caldissimo perché è appena terminata la conferenza stampa e se non ci sono domande da studio grazie per la linea e buon proseguimento di telegiornale. Grazie, grazie Manolita per questo bel reportage e anche con la voce in diretta del sottosegretario. Bene, nel servizio poi di stasera, nell'edizione della sera, un ampio servizio che appunto parlerà di quello che è stato discusso in questa conferenza stampa. Bene, rimaniamo in Regione perché il 2024 non inizia bene solo per il tema della sanità ma anche per quanto riguarda il tema ricostruzione e cratere. Ai nostri microfoni il commissario Castelli ha parlato di quello che è stato fatto, di quelli che saranno i prossimi step, il servizio di Manuela Cermignani. Iniziamo il 2024 secondo tutti i buoni ospici per la ricostruzione sisma 2016-2017 per tutto il cratere sismico. Si è concluso un anno veramente importante, record di chiusura dei cantieri privati a novembre, i cantieri delle opere pubbliche, la transizione dal vecchio al nuovo codice degli appalti, nuove norme che hanno sbloccato problemi su pratiche ferme nei comuni, temi come la salvaguardia delle scuole e la stabilizzazione del personale, oltre 360 persone che permetteranno la velocizzazione della gestione delle pratiche. Tutto questo anche grazie al supporto del governo. Fatto di traguardi, fatto di velocizzazione dei processi e delle creazioni di normative ad hoc, è stato un 2023 decisivo. Quando mi sono insediato ho verificato che su circa 50.000 progetti attesi di ricostruzione ne sono stati depositati circa 30.000. Mancano 20.000 progetti all'appello e in particolare mi sono preoccupato del fatto che molti di questi riguardano proprio prime abitazioni e siccome abbiamo ancora qualcosa come 12.000 nuclei familiari che vivono fuori da casa, nelle site, nelle casette oppure beneficiato del CAS, noi abbiamo voluto concentrare l'attenzione proprio sulla assoluta necessità di procedere al deposito dei progetti, così che riguardato appunto coloro i quali hanno perso la prima casa si possa finalmente uscire definitivamente dall'emergenza. La strategia che noi abbiamo sviluppato mira a realizzare una sorta di appennino contemporaneo, cioè un appennino che conserva la sua bellezza, il suo paesaggio e punta molto sul turismo, sulle meraviglie naturali dei nostri ambienti, ma è anche un appennino che aggancia la modernità e che quindi si rende luogo dove la sostenibilità può essere applicata ai massimi livelli, da qui il finanziamento di 22 comunità energetiche rinnovabili, da qui anche la sfida per una ricostruzione che debba garantire ai nostri edifici di essere anche performanti dal punto di vista dell'efficientamento energetico e poi la grande sfida appunto di Next Appennino per quanto riguarda i finanziamenti ai nuovi progetti di investimento. Solo nel mese di dicembre abbiamo finanziato qualcosa come 250 milioni nelle sole marche per poter appunto avviare progetti di investimenti che saranno grandi, medi, piccoli e piccolissimi. Insomma un'idea in cui si mantiene l'idea di un luogo identitario meraviglioso e bello, ma anche un appennino dove è possibile vivere, lavorare, far crescere i propri figli avendo servizi adeguati a quelli che sono gli standard della modernità. Bene, siamo alla cronaca, un incendio nella serata di ieri in una palazzina di due piani in località Mettaurilia di Fano, in strada comunale Ponte Alto. L'incendio si è sviluppato al piano terra, a fuoco sono andati gli arredi mobili, andati completamente distrutti dalle fiamme. L'appartimento è stato reso non fruibile per l'annerimento dovuto al denso fumo che si è sprigionato durante il rogo. C'era la presenza di un'anziana signora di 83 anni che era all'interno dello stabile ma che è stata trasportata prontamente al pronto soccorso di Fano per accertamenti con un principio di intossicazione. Era sola al momento dell'incendio. Le cause di questo rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 21 e 15 di ieri sera e le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco si sono protrate fino ben oltre la mezzanotte. Fronte sempre aperto, quello del contrasto dallo spaccio e dal traffico di stupefacenti, le forze dell'ordine sono sempre sul Kivala. Andiamo in un'operazione nelle Marche. Proprio su questo fronte ce ne parla Andrea Verdolini. Un tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria dopo un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Porto Sant'Elpidio. Il giovane è stato controllato nel centro della cittadina rivierasca e sottoposto a perquisizione personale. È stato trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di 25 grammi. La droga è stata sequestrata in attesa di ulteriori approfondimenti investigativi. Oltre al reato di detenzione di stupefacenti, il nord africano è risultato essere inottemperante al decreto di espulsione emesso il 15 maggio scorso dal prefetto di Ancona. Tale decreto prevedeva che l'uomo lasciasse il territorio nazionale entro sette giorni dalla data di notifica. Dopo le formalità di rito, l'extracomunitario è stato invitato a presentarsi presso la questura locale per regolarizzare la sua posizione. L'intervento rientra nel quadro dei servizi mirati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia di stato di fermo nella tarda serata di ieri ha denunciato un cittadino romeno per il porto senza giustificato motivo fuori dalla sua abitazione di una riproduzione di un'arma priva del tappo rosso e per il possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish. Due etti, due notti fa naturalmente era arrivata presso la sala operativa della questura una segnalazione relativa alla presenza di un locale del lungomare di due uomini con fare sospetto di in particolare uno dei due descritto con un giubbotto, con un cappuccio calzato e un borsello a tracollo ed in possesso di una pistola. Dalle immagini poi delle telecamere di sovveglianza vagliate dagli inquirenti si è potuto risalire all'identità dei due soggetti, in particolare proprio di colui che era stato descritto in possesso dell'arma. Era un giovane ventenne rumeno noto alle forze dell'ordine che è stato assicurato alla legge. Bene, ed ora parliamo di Bolkestein che sembra non essere un incubo solo per i balneari. Ci sono altre categorie e parliamo degli ambulanti che hanno il rinnovo delle licenze sulle teste dei quali pare pendere questa spada di Damocle. Allora Camilla Cataldo è andata a Pesaro, ha intervistato un referente di un'associazione di categoria che si occupa proprio di ambulante. Sentite appunto in questo servizio qual è il loro stato d'animo. Sono tanti i mercati nella nostra regione che godono di buona salute e la famosa legge Bolkestein potrebbe migliorarne la situazione. Infatti la normativa riguarda anche gli ambulanti, non solo i balneari e i tassisti. Tra questi ultimi c'è malcontento. Per coloro che lavorano con le loro bancarelle ci sono meno problemi sulle licenze e sulla libera concorrenza. La direttiva europea ha il pregio di mettere fine alla precarietà delle concessioni. L'articolo 11 del DDL stabilisce i termini. L'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche avverrà tramite gare a evidenza pubblica con il termine di 10 anni per i posteggi non ancora assegnati. Per salvaguardare il legittimo affidamento, gli attuali concessionari potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. Trasparenza e rilancio del settore si naviga meglio a vista. Qualche anno fa abbiamo fatto con le nostre associazioni l'assegnazione dei posteggi tramite bandi e quindi si sono state rilasciate per 12 anni. Adesso con questo DDL e l'articolo 11 dovrebbero assegnare i posti vacanti e tutelare gli attuali esercenti, anche perché avendo una data certa è possibile effettuare degli investimenti, cosa che adesso non è possibile perché non sai mai quando puoi perdere il posto di lavoro e quindi andare a comprare anche un'automezzo che può costare 50, 100, 200 mila euro quelli alimentari è un investimento non da poco che ha bisogno di tempi certi per poter rientrare. Siete soddisfatti dei cambiamenti, un calcio al precariato? Sì, diciamo che purtroppo entrando nella bocca, stanno avendo una data certa, stringendo i denti siamo contenti anche se prima era un rinnovo automatico, anche perché noi ambulanti, e questa è una cosa che bisogna ricordare, non abbiamo un uso esclusivo di un bene pubblico limitato perché noi occupiamo un bene pubblico, strade, piazze che sono illimitati per un tempo di 8 ore e quindi se domani il Comune vuole fare un nuovo mercato lo può fare, quindi da noi la concorrenza c'è. Tema molto chiaro e soprattutto anche caldo. Adesso cambiamo decisamente tono di notizia e ritorniamo a parlare della strage di Corinaldo, la lanterna azzurra. Tutti quanti abbiamo ancora negli occhi le immagini terrificanti di quella nottata che è passata alla storia in cui hanno perso la vita 5 persone. è stato veramente un passaggio cruciale nella vita della comunità, ma soprattutto non è stato più la stessa cosa, 6 persone hanno perso la vita, chiedo scusa, erano gli adolescenti più la mamma. Dunque, perché vogliamo parlarvi ancora di questa cosa? Perché ai nostri microfoni abbiamo avuto, quindi ai nostri studi, due ragazze che in quella fatidica notte videro quello che stava accadendo, erano presenti alla lanterna azzurra, hanno vissuto sulla loro pelle quei tragici momenti. Ebbene, abbiamo raccolto la loro testimonianza perché ogni 8 di dicembre cercano di fare un'azione simbolica che sia naturalmente significativa per quello che è il loro scopo in questa associazione che hanno fondato, Cogeo, che vuole portare avanti una battaglia che serve a tutti i ragazzi che vogliono un divertimento in sicurezza. Sentiamo la loro testimonianza molto toccata. Quest'anno per la giornata del ricordo dell'8 dicembre avete scelto un modo un po' diverso per ricordare questa giornata così saliente nella cronaca, possiamo dire, nazionale. Sì, quest'anno a differenza dell'anno scorso abbiamo deciso più di puntare su una partecipazione attiva del pubblico e quindi abbiamo puntato grazie all'aiuto, tramite l'aiuto appunto di Cati Orbinelli che è attrice, regista e insegnante di teatro presso il Teatro Nuovo Milograno di Senigallia, di ricreare una situazione di quello che noi abbiamo vissuto 5 anni fa per poter far capire in prima persona al pubblico quello che noi abbiamo vissuto e cercammo molto di trasmettere il nostro messaggio non solo delle sensazioni che abbiamo provato ma anche di una paura nei confronti del futuro di quello che possa avvenire. Sensibilizzarli perché il divertimento è giusto che ogni ragazzo lo viva ma in maniera sana e quindi quello che vogliamo portare è un divertimento in sicurezza. I ragazzi si chiedono molto, cioè noi gli proponiamo proprio delle domande, gli facciamo quando voi andate nei locali, nelle discoteche, vi sentite sicuri? E loro spesse volte ci rispondono di no. Ed è per questo che noi proprio lavoriamo i progetti con l'associazione Cogeu per portare sempre più un divertimento in sicurezza. Vorrei tornare indietro nel tempo e prendervi la mano, vorrei afferrarvi il braccio e portarvi verso un'altra uscita. Forse lei sarebbe ancora qua e forse tu non saresti finita in coma farmacologico per tre giorni, ma non posso tornare indietro e dovrò convivere per sempre con quello che è successo. Mi è capitato anche in altri posti, al di fuori dalla regione. Purtroppo dopo che sperimenti una cosa del genere sulla tua pelle, sei molto più attento ai dettagli, anche a cose banali che prima non notavi, ma adesso noti necessariamente. Io per mesi non sono riuscita ad andare a ballare perché non riuscivo ad affrontare il locale da ballo. Pensi sempre, no, ma non capiterà mai a me, sono cose lontane che sento il telegiornale. Invece quando le vivi da vicino ti rendi conto, infatti noi da quella volta quando andiamo in locali, discoteche, abbiamo proprio un altro modo, occhi diversi nel vedere le cose. Penso perché uno da giovane si fida magari degli adulti, si fida del locale, della sicurezza e pensa di andare lì in maniera molto spensierata e in realtà poi non è così. Io spero che un domani, non so quando, tra qualche anno, l'8 dicembre, tutti in Italia dedicheranno un pensiero ad Emma, Mattia, Benedetta, Asia, Eleonora e Daniele, perché io con cura non dimentico. E vi prego, nell'ipocrisia e nell'egoismo, fermatevi almeno per un attimo, ricordate e con cura. Non dimenticate. E non ce lo dimenticheremo sicuramente, anzi si cercherà di fare di tutto perché questo non accada mai più. Cambiamo argomento, nell'ambito del progetto Bussola Digitale orientiamo le marche attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del PNRR di 3,2 milioni di euro che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le marche, due dei quali a Senigallia, a cui i cittadini si possono rivolgere per chiedere aiuto nell'accesso ai servizi online. È una partenza di un ciclo di corsi che naturalmente vuole implementare le competenze digitali dei cittadini. La partecipazione è completamente gratuita, i corsi base prenderanno il via giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 9 e fino alle ore 12 e 30. Il primo tema è i segreti dello smartphone, come utilizzarlo al meglio. Per prenotarsi e informazioni attinenti a questa iniziativa è sufficiente recarsi presso i punti di facilitazione digitale del Comune di Senigallia o andare sul sito del Comune. Parliamo di ambiente, di scienza e di nuove frontiere appunto per la ricerca scientifica a tutela del nostro patrimonio terraqueo e non solo. E quindi c'è un'università a Fano che è l'Università del Mare, che è un'organizzazione di volontari che si occupa proprio di divulgazione scientifica. Ebbene, anche per quest'anno ha messo in piedi un calendario di eventi di tutto rispetto. A finalità di divulgare un messaggio scientifico legato al mare e alle sue problematiche ambientali far conoscere anche ciò che avviene all'interno del Fano Marine Center, il rinnovato polo scientifico e di ricerca fanese dove operano ricercatori da ogni parte d'Italia con partnership universitarie tra Urbino, Bologna, Ancona, CNR e stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. L'Università del Mare, organizzazione di volontariato, ha organizzato per il secondo anno un fitto calendario di eventi per il 2024, presentati assieme all'assessore all'ambiente del Comune di Fano, Cora Fattori, puntando fortemente sulla sensibilizzazione e la divulgazione corretta di tematiche scientifiche per le operazioni culturali di alto profilo. Il nostro compito di fare l'Università del Mare è fare da ponte fra la ricerca scientifica e la cittadinanza e abbiamo studiato praticamente un evento al mese con ricercatori scientifici che sanno parlare al pubblico e spiegare come si difende il mare e come funziona la vita marina. L'ambiente e le sfide che il clima ci impone sono una prerogativa imprescindibile per la nostra società e per il nostro futuro, quindi sapere è importante. Esatto, conoscenza e azione e in questo siamo uniti dalle varie associazioni ambientaliste di Fano che ci accompagnano in questo percorso e hanno aderito al nostro programma con entusiasmo. Si dice che le azioni contino più delle parole, ma sono le parole che ispirano le azioni. Questa è la filosofia alla base dell'Unimar di Fano. Lo start del calendario è l'11 gennaio per un aperitivo scientifico, una iniziativa che già in passato ha riscosso successo e dove si parlerà di pescheria sostenibile, ovvero sia l'utilizzo in cucina di specie ittiche invasive vedi granchio blu. E con questa notizia siamo arrivati in fondo a questa edizione di All News, ecco il sommario con le notizie principali. In regione oggi il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, incontro per i fondi alla sanità. Ricostruzione e cratere sisma. Il commissario straordinario Castelli fa il punto della situazione ad inizio 2024. La scure della Bolkenstein si abbatte anche sulle licenze degli ambulanti, il parere del sindacato Anva. Strage di Corinaldo, la testimonianza di chi visse l'orrore di quella notte, ora invece si impegna per un divertimento in sicurezza. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia dopo la sigla Il Meteo e poi All Sport con tutti gli aggiornamenti sportivi. Bene, grazie per essere stati con noi e quindi l'informazione torna questa sera nella seconda edizione di All News. Arrivederci. Asset, quando il cittadino è al centro. Revisioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigili. In montagna, cieli coperti con qualche chiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Revisioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigili. In montagna, molte nubi con deboli piogge.